ad alantar avanti del coin up siamo dentro capcom arcade asylum si chiama stadium ho comprato un po di giochetti e arcade che mi riportano a quando ero veramente molto molto piccolo iniziamo da street fighter 2 turbo facciamo una partita pecca prendiamo rio rio y colori allucinanti stage di un anno arrivo verso scam ci siamo che mi vieni qua subito presa o in avvertitamente incredibile press kick press kit vabbè sono stato completamente arato va bene non c'è problema probabilmente non è un gioco per me questo la difficoltà è allucinante non so c'è state vedere cioè insomma manco l'ho toccato io vado a vuoto lei sempre ok molto male abbiamo preso le pizze alla grande mi sa che questo con l'arcade stick con lo giochi in quel modo oppure ce l'hai nel gatto mettiamo il nostro soldino ritorniamo in game io vorrei facciamo un giro con i nostri personaggi preferiti di tutti i tempi l'altro è blanca rio blanca l'ultimo ve lo svelo dopo dai all'attacco subito così così bella prova così time in trio vai con il cazzo ottone guarda che cosa mi sta facendo lei guarda incredibile anticipo tutte le mosse niente incredibile eh no è tarata troppo troppo in alto la difficoltà molto male molto male capcom stadium difficoltà abberrante o sono veramente una bippa io ma c'è almeno metà vita pensavo di poterli la togliere vabbè che altro abbiamo qui e poi sto giocando anche a slow eh l'altra c'è lì questi sono i miei tre best all time eh guarda quanto gli ho tolto io guarda quanto mi ha tolto lei cioè è incredibile mi sto incazzando cioè non è veramente fair cioè qui o vai di combo fatte bene oppure sei nel gatto troppo forte bella via di sto cazzo ottone perché non lo so che fai così presa o ci arriva meglio qui eh quanto è forte guarda come mi è preso guardala non ci credo non ci credo guarda guarda che cosa incredibile non ci credo si fai vedere pure le chiappe va bene per street fighter oggi è abbastanza abbiamo preso le pizze da per tutti lasciamo andare il countdown se ti piacciono i miei contenuti metti un mi piace a questo video iscriviti al canale attiva la campanella e lascio un commento li leggo sempre tutti e rispondo sempre a tutti andiamo via da questo gioco maledetto attenzione un altro gioco si voglio annullare la sezione la sessione non voglio riprovare la rete class up attenzione hai definito personaggi poi postato sotto voce personalizza del menu di gioco che vuol dire non capisco altro giro altra corsa personalizza aspetto cabinato con filtro immagine F si allora siamo di fronte al gioco della mia vita praticamente questo è il gioco che mi ha formato come giocatore è il gioco che più ho cercato di giocare quando ero bambino senza la giochi e sul commodore 64 ma il mio commodore 64 era stregato inseriamo il coin e ci siamo eccoci qua the fields the fields incredibili così si spara così si salta qui c'era un trucco se io saltavo qui non veniva su una cassa fammi vedere se ho ragione naturalmente no non ho ragione oppola 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 no ho sbagliato il tasto sono messo in male una scusa di merda buona la collana 200 e 200 non mi fido ovviamente questi zombie iper iconici per l'epoca chiaramente capelli rossi occhi rossi pelle bianca appunto superato l'occhio maledetto ecco me l'ho ammazzato questo occhio incredibile non ci si può credere vai morti immediatamente no non morti loro sono non morti devo vedere se posso cambiare i pulsanti e che così è una tragedia ma qui c'era il diavoletto che non mi ricordo come si uccide tra l'altro un'armatura wow ucciso il diavoletto wow e andiamo dai che forse arriviamo al boss qui bisognava evitarli esatto io l'ho presi proprio direttamente in bocca maledetto maledetto andiamo dai Arthur dai Arthur questo lo ammazziamo uuuu the best weapon in the game lords super liscio vediamo se passiamo il boss qui non ricordo cosa c'è c'erano i fantasmini i lanciatori facevano il giro non si ricordava che facevano il giro questo guardate dove escono sti maledetti bastardi e andatevene via e ora c'è il boss ecco fatto sbagliato pulsante un'altra volta finito ghost and goblins mi fa mettere il record per ghost and goblins è tutto passiamo ad un altro gioco no non continuiamo siamo al suo successore ghosts and ghosts un altro gioco completamente che mi ha formato nella vita dov'è eccolo personalizza aspetto anche lui vogliamo il G applica i cambiamenti e gioca dobbiamo mettere i soldi oh però io volevo full screen eccolo avete sentito il rumore è fantastico oh no oh princess è bruttissimo lui qui c'era il trucco della gas eccola mi ricordavo bene qui non ci sono più i zombie ma ci sono i scheletri con la falce una grafica che da 8 bit forse passa a 16 bit non ricordo armatura d'oro per noi vai l'armatura d'oro in sé detiene un potere tu tieni premuto il pulsante con cui attacchi e rilasci una volta che la barra sotto in basso a sinistra si sarà riempita scateni il potere dell'universo qui abbiamo la spada e l'ascia direi che ho fatto una cazzata mi sa che ho fatto una cazzata ma grande come una casa grande come questo gioco la cazzata l'ho fatto vai Arthur in mutante è l'Arthur che ci piace di più il super avventuriero perché è il simbolo delle difficoltà abbiamo di nuovo la nostra lancia possiamo andare questa è infame da superare qui diciamo abbiamo il gioco riemula quasi le situazioni del primo dei livelli anche nel primo affrontavamo un ponte arriviamo in una ratura con gli alberi se vi ricordate bene poco fa l'abbiamo vista la maledetto vieni qua vieni qua vieni qua guarda il ciglio di mango qui non riusciamo ad andare avanti secondo me mi sono sempre stati maledetti qui c'era il maghetto l'illusionista più che altro però dai che cosa succede? tu apri la cassa con l'illusionista tu alla prossima cassa ti sei garantito l'armatura la prossima cassa che apri è l'armatura funziona così sempre stato così sempre sarà noi ce ne andiamo subito immediatamente sopra attenzione gli alberi maledetti dovrebbe spawnare una cassa no non spawna oddio dov'era il maialone bastardo perché se lo ricordava questo no doppio maialone che vomita anche game over ma questo era ghouls and ghosts boom ok possiamo cambiare il gioco che altro avevamo qui una partita final fight chi non conosce final fight ha perso nella vita personalizziamo anche qui l'aspetto schermata normale filtro immagine G mettiamo il nostro coin mandiamo guy che è altissimo più marziale dei drey una risata così iconica non me la ricordo forse quella del joker spacchiamo eh questo non si prende la cabina telefonica spacchiamo cusate ero un attimo concentrato a prendere a pizza il tizio qui cosa abbiamo c'è tanta gente l'altro è calcio volante sempre servito questo spazzone lo spazzone alle volte è necessario però ti consuma vita che chiaramente ti tira fuori dai guai il drawback ci deve sempre stare luce discoteca stroboscopica best prendiamo il tubo rimaniamo con il tubo quelli più uuuuh cinciunran mica mi ricordavo questi quelli che ti partono di cranio venite qua mazza OP sto coso perciò male abbastanza OP abbiamo passato indenni questo livelletto grazie al tubo due vite ci curiamo e ci prendiamo di nuovo la pipe li veniamo proprio brutti anche damno è il nome del boss damno damno che zompa come una rana una certa fischietta arrivano gli amici basta zitto ti prendo a pezze chiamano amici suoi ecco esatto ecco che fine fa il tubo mega galattico una volta che ti colpiscano e va per terra lo perdi tutto cioè lo perdi completamente io sto per morire speravo di farmelo speravo di farmi il boss sindenne e invece ne stanno prendendo a pezze alla grano d'altronde questo gioco è stato programmato così d'altronde io lo appizzi lui non si può attaccare mentre fischietta ha i soccorsi lei con le manette arrivano due tizi che buttano le fiamme per terra lei lei la prendiamo a pezzi mi dispiace un po' però niente violenza sulle donne damno è morto vai a casa ok chi se ne ricordava la zona della metropolitana un coltellino il coltellino adesso lo uso alla grande no me l'hanno tolto perchè sono caduto per terra axel è difficilissimo da buttare giù no signorina non ti volevo fare per male e dai su è arrivato Andore Junior me lo ricordo Andore Junior per evitare gli attacchi dei nemici guardate le ombre sotto i loro personaggi quando saltano per farvi capire dove sono andati a finire cioè dove andranno a finire Andore Junior abbiamo spiegato il pugnale questo non me lo fa prendere aia questo è chiaramente un omaggio a André di Giant che all'epoca spopolava e dai mi ha preso a giro questo finalmente è morto noi siamo a corto di vita dentro la metro dai raga fatemi spaccare qualcosa per recuperare vita altrimenti qui siamo nel gatto figo sto livello figo il design è arrivato un altro Andore sono praticamente morto ciao ragazzi è stato bello e va bene lasciamo scoppiare la dinamite a Cody non è a Cody è Guy nulla noi ci vediamo a un prossimo video statevi bene Atalantar ciao a��ana a a a Grazie a tutti.